Nuovi finanziamenti per l'Istituto Musicale Toscanini di Ribera. In arrivo dal Ministero 275 mila euro, che fanno seguito ai oltre 150 mila assegnati alla scuola dalla Regione circa un mese fa. Fondi che permetteranno oltretutto a breve il trasferimento del Toscanini nei nuovi locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale in corso a Umberto. Una realtà appunto di riferimento per il territorio che fino a qualche anno fa rischiava la chiusura e che adesso guarda invece con fiducia e ottimismo al futuro. Già in aumento il numero degli iscritti all'Istituto Musicale di Ribera. Il nuovo anno accademico conta quasi 400 iscritti, più del doppio rispetto a quelli del 2016. Un numero destinato ad aumentare con l'incremento di nuovi percorsi di studi. A trasferimento effettuato dal 2019 al Toscanini dovrebbero infatti essere attivi 22 corsi. Come anticipato dal direttore Mariangela Longo, sono già state autorizzate le sezioni Pop Rock, una novità per il territorio. Si attende ancora invece che vengano autorizzati dal Ministero dell'Istruzione i 16 nuovi bienni richiesti per il nuovo anno accademico. È un momento storico per l'Istituto, hanno dichiarato al Giornale di Sicilia il direttore Longo e il presidente Turturici, che è l'unica istituzione di alta formazione nell'agrigentino, con 27 anni di attività e grandi riconoscimenti nazionali e internazionali. Fondato nel 1991 dell'ex provincia, rientra tra i 17 istituti musicali in carico ad enti locali e rientra tra le 73 istituzioni AFAM italiane. Un punto di riferimento quindi per la provincia di Agrigento e non solo, è che dopo essere stato a rischio chiusura per mancanza di fondi, adesso finalmente è in pieno rilancio.